si mosci mosci ciao ragazzi sono giocato questo video questa è la parte 2 e basta però Angela e te lo tolgo come vedete c'è meno 4 oggi 5 4 6 6 6 6 8 8 8 9 10 11 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 guarda lecce questo è lungo in questa casa basta che attraverso la strada e si prende se non sbagliarvi in strada non vediamo lì ma anche se non sbagliare la strada è iniziata e non so il nostro corso non so 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 C'è anche i nancini sport C'è anche il governo C'è anche il governo E' stato un euro E' stato un euro è uguale amore io voglio farmi una girata una camminata datemi tanti like e al prossimo video ciao